Musica Ciao a tutte ragazze e ragazze e bentornati con questo nuovo video. Oggi spacchettiamo il pacchetto numero 2 da parte di Shogun. Spacchettiamo! Musica Allora, che cosa troviamo dunque? Un bagno Lux, questo fa parte della linea casa, chiaramente, sanitario e piastrelle, anticalcare e brillante. Ne ho sentito parlare molto molto bene, lo proviamo, questo è mio. Il dentifricio a carbone attivo black, anche questo è mio, ne ho sentito parlare benissimo e voglio provarlo. Vi farò un video dove testerò insieme a voi questo dentifricio a black. Ah, questo qua pure, l'ho preso io e per mia cognata. Ciao Stefania! Questo qui, non so se l'avete visto, anche questo faremo il video dove ve lo facciamo vedere. è il liquid screen protector e questo qui serve per salvaguardare lo scan del proprio cellulare, tablet, smartphone, eccetera, eccetera. Mi hanno abbinato anche questo piccolo profumino da 20 ml, giusto per provare l'apparenza. Questo, se non sbaglio, è For Her, di Narciso Rodriquez. Poi, qui abbiamo cinque profumi. I profumi, questi qui, sono cinque e sono di 35 ml ciascuno. Ora li vediamo. Questo qui, che è femminile, lo possiamo riconoscere anche dalle scatoline che ormai le stanno facendo simili a quelli originali, perché, appunto, questi profumi sono ispirati a delle fragranze originali. Questo è Lady Million di Paco Rabanne, quindi questa è la fragranza ispirata a Lady Million. Il codice, ora non lo trovo, 319. Poi, c'è quest'altro anche che è femminile e questo dovrebbe essere quello mio, vediamo, articolo 90, sì. Quindi, questo qui è quello ispirato a Dior Poison Girl. Quindi, l'ho preso io per provarlo, adesso vi farò sapere che cosa ne è questo. Poi, ci sono altri tre profumi e sono tre profumi tutti e tre maschili. Dunque, questo qui che è Mr. Barberry, se non sbaglio, di Barberry. Qui che invece è One Million, questo è One Million Papa Rabanne. E poi c'è quest'altro qui che è Jean Paul Gaultier de Mal, infatti si assomiglia pure alla confezione originale di Jean Paul Gaultier. Poi, ho preso per me l'agenda che finalmente mi è arrivata e da un mese, ragazzi, che sto cercando di prendere un'agenda in qualsiasi posto, qui in città oppure anche online, non c'è nessuna agenda disponibile. Anche qui c'era il rischio di avviamento scorte e quindi pensavo che non arrivasse, invece è arrivata. Bene, ragazzi, quindi lo spacchettamento è finito anche per questa volta. Se vi è piaciuto questo video vi chiedo di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale. Seguitemi anche su Instagram e su Facebook, nelle pagine che vi lascio qui nell'info box. Io, ragazzi, per questa volta vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!